Buongiorno a tutti, benvenuti o ribenvenuti su The Great Pwn, io sono Lorenzo e oggi vediamo sempre nella rubrica come si pensa a scacchi un importante argomento, ovvero i mini piani. Innanzitutto che cos'è un mini piano? Dobbiamo sempre pensare di trovare perlomeno un metodo per pensare agli scacchi, cioè ci viene data una posizione come quella che vedete in questo diagramma, che vi spoilerò fra l'altro una partita fra Karsen e Kramnik, quindi due pesi massimi del movimento scacchistico internazionale, però a noi non ce ne frega nulla di chi l'ha giocata, immaginiamoci di aver davanti questa posizione e dobbiamo capire come approcciarci. Inizialmente possiamo fare delle valutazioni piuttosto generiche, anche se importanti, per esempio qual è la prima cosa che salta subito all'occhio? Beh, innanzitutto la differenza di struttura. Qui il nero ha questa impedonatura sulla colonna F, i pedoni F7 e F6 che possono consistere appunto una debolezza. Però non dobbiamo solamente vedere i lati negativi dello schieramento avversario, ma tenere anche in considerazione che per questa debolezza comunque sia ha la coppia degli alfieri. Questo può vuol dire come non voler dire qualcosa, bisogna sempre vedere come la riuscirà a sfruttare, però sono elementi da tenere in considerazione. Ora, come possiamo pensare a questa posizione? Beh, quando una persona pensa genericamente a un piano scacchistico gli vengono subito in mente qualcosa come, non so, creare una debolezza nel campo avversario, sfruttare un determinato pezzo, creare anche un attacco, una rete di matto, anche quello può essere un piano. Però, qual è il problema? Che sono cose un po' troppo astratte, un po' troppo generiche, dei piani ok di massima, ma sono cose talmente generali da essere completamente inutili da sfruttare in una partita concreta, in una posizione concreta come questa. Quindi, come fanno i forti giocatori, o semplicemente i giocatori che hanno un po' di metodo a riuscire a decifrare e riuscire soprattutto a trovare il piano giusto in questa posizione? Beh, non ricorrono a questi piani così grossi, così enormi, ma utilizzano il concetto di mini piano. Cos'è un mini piano? Beh, semplicemente sono delle piccolissime operazioni, questioni anche a volte di solo due tramosse, che raggiungono un determinato obiettivo. E appunto l'idea di mini piani è avere tanti mini piani consecutivi in maniera tale che concatenandoli tutti in un unico grande piano si possa appunto raggiungere un miglioramento netto della posizione, o comunque sia un obiettivo che ci siamo prefissati. Questo è, diciamo a livello teorico, la spiegazione di che cos'è un mini piano. Però caliamoci subito nella pratica scacchistica. Allora, questa posizione abbiamo già detto, c'è questo squilibrio, coppia degli alfieri versus debolezza pedonale. Ora, il bianco cosa fa? Beh, innanzitutto sviluppa un pezzo, cavallo F3. E dopo cavallo F3 il bianco si deve chiedere, cosa devo raggiungere in questa posizione? Beh, come si potrebbe pensare? Innanzitutto lavoriamo su quello che sappiamo, c'è questa debolezza. E non solo una debolezza come nell'impedonatura rende deboli i pedoni in sé, anche se dipende dai casi. Ma soprattutto cos'è che rende debole? La casa davanti a tali pedoni. Perché essendo impedonati non ci sono più pedoni sulla colonna per esempio E o sulla colonna G. Quindi la casa F5 non potrà mai più essere controllata da un pedone. semplicemente rimane molto debole. Il bianco se ne accorge e inizia a pensare al piano generale, cioè prendere possesso della casa F5 che poi si potrà sfruttare. Però prendere il possesso della casa F5 è una questione troppo effimera per poter essere calata in un contesto scacchistico di pratica scacchistica. Quindi cosa succede? Il bianco identifica dei mini piani. In questo caso chiaramente stiamo parlando di Karsen, quindi il giocatore senza ombra di dubbio più forte al mondo, che tra l'altro è esperto nel rendere molto chiare le sue idee. Quando guardiamo le partite di Karsen riusciamo proprio a distinguere vari tipi di piano, proprio perché è un gioco talmente cristallino che è molto utile da studiare in caso di strategia o soprattutto come studiare i processi decisionali o di pensione agli scacchi. Qua ci sono 5 micropiani che Karsen segue. Il primo è assumere il controllo di F5, importantissimo. E cosa si può fare? Beh, semplicemente cavallo H4. È un primo mini piano. Un secondo mini piano successivo è manovrare con l'altro cavallo in maniera tale da prendere il controllo di F5. Quindi ci aspettiamo una manovra del tipo cavallo E2, cavallo G3, sempre per avere il controllo di F5. Dopo cosa si potrà fare? Beh, si potrà sancire completamente il controllo di F5. E come si può fare? Semplicemente, magari con G4 al fire D3. E a questo punto, facendo un po' uno sforzo di immaginazione che vada oltre queste freccettine, riusciamo a vedere come dopo questi tre mini piani il controllo di F5 sia completamente assicurato. Cioè, grazie anche G4 al fire D3, il nero non può far più nulla per contestare F5. Quindi, quale potrebbe essere poi un'ulteriore idea? Beh, un'ulteriore idea, per esempio, un quarto mini piano, che va già oltre l'assunzione, il controllo assoluto di F5, potrebbe essere per esempio sfruttare il pedone H. Immaginatevi la situazione in cui il bianco abbia un bel cavallo in F5. Beh, si potrebbe per esempio manovrare con il cavallo, per esempio, che sarà in H4 per poter arrivare, per esempio, non so, a spingere un H4, H5 o cose di questo tipo. Però, prima di vedere poi le conseguenze, concentriamoci innanzitutto su questi tre piani, mini piani qua. I primi tre mini piani della partita. Allora, vediamo subito. Il nero gioca cavallo D7. Cavallo D7, mossa normalissima, tranquilla di sviluppo, e il bianco gioca cavallo H4. Come è stato detto, applica il primo mini piano, che va a controllare la casa F5. Il nero continua con l'alfiere E7. E adesso, immaginiamoci questa situazione come se fosse nuova. Di sicuro non troveremmo la mossa che ha giocato Karsen. Perché Karsen qua gioca cavallo E2. Che è una mossa strana. Cioè, se ad ognuno di noi ci venisse data questa posizione, beh, magari qualcuno ci arriverebbe a cavallo E2. Ne sono sicuro, però dopo un po' di ragionamento. Invece, vedete che in quest'ottica, adesso che sappiamo a che cosa sta ambendo Karsen, cioè il controllo della casa F5, cavallo E2, viene normalissima. Perché è all'interno di un mini piano, all'interno di una manovra con cui giocherà cavallo G3, per appunto andare in F5. Ora, qua c'è un prima e un dopo questa partita. Perché Kramnik, che assolutamente non sapeva di questo piano, nel senso, era la prima volta che è stato giocato, ha giocato in maniera un po' incauta a cavallo B6. In realtà, dopo questa partita, visto la pericolosità quanto linearità del piano di Karsen, il nero ha iniziato a giocare mossa come F5. Questo perché? Perché va proprio a minare l'idea del bianco. Cioè, con F5 si cerca un po' di andare a mettere un freno a questo controllo della casella stessa. Come si può continuare qua? Beh, adesso c'è un bel dibattito riguardo a questa variante, però si gioca G3, alfiere per H4, G per H4, cavallo F6, cavallo F4 e qua si gioca di solito, come teoria, cavallo F5. Questo è, diciamo, è uno degli ultimi dibattiti teorici su questa variante del gambetto di donna rifiutato. Dà sicuramente da approfondire, ci sono ottime idee interessanti in questa variante. Si è assegnato un piccolo vantaggio il bianco, proprio perché comunque sia c'è l'alfiere in G6 che assomiglia più a un poidone un po' più grassottello. Cavallo in F4 comunque bisogna capire un po' la tensione di questi due cavalli, ma comunque sia sta bene. L'alfiere bianco, comunque sia, ha delle prospettive, ci sono appunto dei motivi per dare un leggero vantaggio al bianco. Comunque il nero appare veramente solido, quindi diciamo che a livello di, a parità di forza, un pareggio potrebbe essere la cosa più scontata, perlomeno. Però comunque sia il bianco ha le sue carte da giocare anche qua. Chiaramente Kramnik giocava per la prima volta lui stesso contro tutto questo piano, quindi forse ha sottovalutato il controllo di F5 e ha giocato cavallo B6. Ora, dopo cavallo B6 purtroppo non si torna più indietro, perché con cavallo G3 Karsen appunto si accinge a finire il suo secondo mini piano, che ripeto è essere il controllo di entrambi i cavalli di F5 per poi metterci un cavallo in questa bella van posta, no? Si vuole appunto dominare proprio fisicamente la casella. Qua al siere B4 nessun problema, intanto siamo praticamente in una specie di finale o meglio gioco senza donne, come preferite chiamarlo, quindi Re D1 senza nessun tipo di problema, cavallo A4. Ecco, qua c'è proprio anche una questione di precisione, di calcolo se vogliamo, ma anche precisione strategica. Cioè cavallo A4 è una mossa che comunque ci fa venire delle preoccupazioni, perché c'è B2 sotto con scacco, ma un giocatore forte come Karsen chiaramente riesce a vedere anche oltre. Molti magari si lascerebbero spaventare a priori, dicono, vabbè c'è un pedone con scacco, dovrò farci qualcosa. Karsen analizza fino in fondo e arriva alla conclusione che cavallo GF5 completando il secondo minipiano è assolutamente la scelta migliore. Questo perché il pedone in realtà non è veramente in presa. Ok? Ce lo possono mangiare subito, ma si vede subito che è un errore, perché Re C2, cavallo C4, alfiere per C4, D per C4, torre HB1. E ora è impossibile non catturare il pedone in B7, perché anche in caso di A5 seguirebbe A3, l'alfiere si dovrà pur spostare da qualche parte, poniamo alfiere E7, ma alfiere E7 tra l'altro non è neanche un'ottima casa, perché torre per B7 arriva anche con tempo. Qua la situazione sta veramente precipitando, i cavalli del bianco hanno ottime entrate, comunque stanno minacciando case veramente importanti, anche la casa G7 da tenere a sott'occhio, un controllo assoluto della posizione, i pedoni fra l'altro sul lato di donna non promettono bene, cadranno uno dopo l'altro e la coppa degli alfiere soprattutto non si sente, cioè sembra quasi più una palla al piede che altro. Quindi questo è il motivo per cui Karsen non si è lasciato minimamente intimorire da cavallo per B2. Ha giocato subito cavallo GF5, dopo di che il nero Kramnik, ovviamente non è un avversario facile da sconfiggere, gioca Re D7, andando un po' a migliorare la posizione del proprio re, facendo comunicarne torri e cercando qualche tipo di controgioco. La cosa qui cerca un po' di ambire il nero è quella di cercare una spinta di rottura in maniera tale da apriressi qualche colonna, anche perché se vedete bene questa posizione non è che sia un granché per le torri, l'unica colonna semiaperta che ha il nero a disposizione è la E, però nella E c'è il pedone appunto E3 del bianco che non lascia spiragli, è ben controllata e non ci sono degli ingressi di torre che promettono chissà che cosa. Il bianco chiaramente però sta comunque attento perché il b2 chiaramente non bisogna anche troppo esagerare lasciando in sospeso troppi pedoni perché il re si è avvicinato, se arriva a proteggere il b7 in tempo poi non abbiamo più i nostri trucchi. quindi torre B1 per proteggere B2 e non porsi mai più il problema di fargli debaglia, re E6 e adesso si inizia col terzo piano che era praticamente la protezione assoluta, probabilmente chiudiamo F5 in una fortezza dal punto di vista del bianco grazie ad alfiere D3 o G4. Qua carse in inizio ad alfiere D3, giustissimo. Torre Hc8, vedete che il nero cerca disperatamente di crearsi del gioco però non è praticamente possibile. Con tutta calma re E2 per far comunicare questa volta le torre del bianco e prepararsi a C5 che prima o poi è l'idea del nero. Adesso alfiere F8 per non lasciare l'alfiere in B4 in sospeso o in balia di una rapida 3 e B4 piena di questo tipo e ora G4. E il terzo mini piano di Carson è completamente a portato a termine. Ora la casa F5 è controllata prevalentemente, anzi assolutamente, solo dal bianco e si può passare appunto ad illustrare gli altri due mini piani che Carson ha in mente. Chiaramente adesso bisogna sfruttare questa posizione. E come si sfrutta? Beh, innanzitutto andando a giocare col pedone H. Cioè il primo mini piano che ha adesso il bianco è quello di portare questo cavallo con una piccola manovra in F4 tramite cavallo D2, cavallo F4. Questo perché innanzitutto il cavallo assume il controllo di casa altrettanto utile e poi ci si prepara a giocare contro questo alfiere. Come? Grazie alla spinta successiva di H4, H5. Questo perché? Perché si vuole appunto portare il nero a dare il suo alfiere campo chiaro sul cavallo, in maniera tale da giocare alfiere per F5 in questa precisa sequenza, vincendo anche la qualità, perché c'è appunto una torre in C8, ma quello che sia anche se non ci fosse la torre in C8 per prendere più spazio possibile. Dopo alfiere per F5 il re dovrebbe praticamente indietreggiare e il bianco piano piano potrebbe prendere, grazie al cavallo, uno o due di questi pedoni. Perché comunque sia le minacce che arriverebbero, come per esempio il cavallo H5, ricordiamoci che potrebbe esserci un cavallo in F4, dopo magari una spinta di pedoni in H6, sono praticamente imparabili. Quindi ci vuole molta attenzione, perché il bianco piano piano stritola, però lo stritolamento è effettivo. Ora Kramnik non può stare lì a guardare, gioca C5, che effettivamente ha un piano interessante per ricercarsi di creare un po' di controgioco, perlomeno non perdere la partita da spettatore, senza avere nessuna voce in capitolo. Ma chiaramente Karsen non se lo fa ripetere due volte, inizia subito col mini piano successivo, cavallo G2, in maniera tale da aprirsi le possibilità col pedoni H4 e H5. Kramnik C per D4 e per D4, perché? Perché l'ideale era appunto aprirsi una colonna per la torre, quindi se l'è aperta, però vedete bene che ingressi notevoli non ce ne sono affatto, no? È praticamente tutto controllato dal bianco, parte G6 e G7 che non fanno paura a nessuno, e comunque sia le torri sono sempre due. e non si capisce bene come farle coordinare o renderle dei pezzi utili in questa posizione, come una sola colonna aperta, peraltro maggiormente controllata dal bianco. Quindi, al Fiera D6, cerchiamo un po' di svilupparci, soprattutto Fiera D6 ha anche l'idea di impedire cavallo F4 fisicamente, no? Quindi tiene la casa F4, ma anche qui, quando un nostro minipiano viene impedito, comunque sia, non è che c'è un ordine forzato, dobbiamo fare 1, 2, 3, 4 e 5, possiamo a volte anche invertirli, a seconda di quello che fa l'avversario. Qua Karsen chiaramente non può completarlo, perché la casa F4 è controllata dall'alfiere, ma ci sono tutti i presupposti per partire col quinto e ultimo minipiano, H4. Il nero capisce subito l'imminente difficoltà di H5, perché ricordiamoci sempre, ci sarebbe un'infilata in questo caso, gioca H5 a sua volta. Però, oramai diciamo che è tutto verso la fine, perché H5 è ok, impedisce la spinta del PNH, però semplicemente cavallo G7, Re7, G per H5. Dopo G per H5, effettivamente il nero è in difficoltà enormi, perché è vero che sono doppiati, è vero che sono pedoni di torre, però sono sempre pedoni passati. E questo è incredibilmente difficile da sostenere alla lunga. Un po' perché sono pedoni passati che possono avanzare molto facilmente. Perché chiaramente il cavallo protegge comunque sia sempre H5, e poi inizia a diventare piuttosto facile spingerli. Ma soprattutto perché adesso dopo Alfi re per D3, Re per D3, non si vede cosa possa fare il nero. Cioè il nero è risultato completamente schiacciato dal piano del bianco. Ora, chiaramente i minipiani sono finiti, perché Carlsen ha raggiunto tutto quello che devo ottenere. I primi tre piani per il controllo di F5, e poi altri due, come abbiamo detto, per prendere uno o più pedoni, come vedremo fra poco, dei tre deboli che aveva il nero sul lato di Re. Quindi vedete appunto come un giocatore forte rende tutto molto coerente, molto logico, tutto cristallino. Cioè siamo partiti da un'idea molto generale, la debolezza strutturale del nero e la conseguenza di avere la casa F5 completamente debole. E abbiamo visto come un forte giocatore piano piano ci lavora sopra. Prima controlla F5 più che può, poi lo trasforma in un buon avamposto, e alla fine utilizza, magari anche usando qualche tattica, in questa partita non c'è stata nessuna tattica, a parte il cavallo G7, che vabbè, è una cosa piuttosto idiota, o anche il vedere che il cavallo per B2 non si poteva fare, forse questa è l'unica tattica, fra virgolette, degna di nota, però arrivati a questo punto, dopo Re per D3, la situazione diventa davvero davvero difficile. Anche perché i cavalli rimangono in gioco, controllano sempre F5, c'è sempre la possibilità di giocare cavallo E3, cavallo F5, cose di questo tipo. Quindi la partita qua, c'è anche la presenza dei pedoni passati, che è assolutamente decisiva, continuerò appunto a mostrarvi un pezzo della partita, però vedrete che Kramnik non ha più assolutamente nessuna voce in capitolo. Re D7, cavallo E3, cavallo B6, cavallo G4, F6 diventa un problema, torre H8. Ora, un cavallo per F6 va benissimo in questa posizione, Karsen ha deciso proprio di andare pianissimo, si sentiva molto in controllo, torre H1, certamente, le torri sono da migliorare, alla fine sull'H non aveva nessun ruolo questa torre qua. Quindi alfiere E7, cavallo F5, ancora una volta questa casa è intoccabile, alfiere D8, H6. Vedete quanto è facile spingere questi pedoni, non importa che siano doppiati, non importa che siano pedoni di torre, affinché si possono spingere così facilmente, il nero dovrà impiegare buona parte delle sue forze per non mancare a promozione il pedoni H. Quindi questo è un grossissimo vantaggio. Torre C8, B3, ok, mossa proprio tranquilli, bisogna sempre giocare in maniera molto tranquilla in finale, mai aver fretta, piano piano, si consolida il vantaggio mossa dopo mossa, B3, la casa C4 non sarà mai più un problema. torre C6, cavallo G3, manovre su manovre, alfiere C7, torre Bc1, certamente, è ovvio, il bianco va verso dei cambi, perché tutta questa situazione è incredibile. Se spariscono gli ultimi pezzi attivi del nero, il bianco vince in maniera netta. Torre per C1, torre per C1, alfiere F4, ma a questo punto c'è torre C5. E qua la partita praticamente è finita. No, c'è la seconda debolezza, se vogliamo. Che, in realtà, perché è la seconda debolezza? Perché la prima non è che sia una debolezza, però, comunque sia, il bianco, cioè il nero, scusate, deve sempre stare attento al pedione H6. E adesso, il bianco trova anche, in una seconda direzione dove giocare, cioè il pedione debole in D5. Quindi, il nero deve tenere contemporaneamente, già due fronti, e non è minimamente possibile. Infatti, Re6, cavallo G7, Re6, cavallo G4, andando a minacciare di tutto e di più, cavallo G7, torre C2, e adesso qua, preso anche un po' dello sconforto, se vogliamo, perché cade un po' tutto, Kramnik ha tentato F5, ma cavallo per F5 a scacco, e la partita praticamente finita. Hanno continuato ancora 10-15 mosse, giusto per, ma assolutamente il nero abbandonato. Non c'è nulla da fare contro questi pezzi troppo ben coordinati, il pedone H è un furfante che non può andare a promozione, non c'è, il nero assolutamente non ha più possibilità di controgioco. Quindi, questo è un frammento della partita, perlomeno breve, ma vi fa capire come si possono utilizzare questi mini piani, partendo da questa posizione, per portare a termine, diciamo, un macro piano, un piano più generale. Quindi, chiaramente, un GM, come anche Carson, che è il primo del mondo, non pensa solo al, tipo, debolezza strutturale, casa debole, ma, proprio sviscera tutti questi dettagli strategici in tante piccole operazioni, da fare, dipendendo poi, chiaramente, nell'ordine, da quello che fa l'avversario, ma, tutte queste piccole operazioni, che portano, appunto, a un grande raggiungimento di un obiettivo, proprio, che in questo caso, è la vittoria della partita, perché, assolutamente, dopo il controllo di F5, e aver preso due pedoni, non c'è più assolutamente nulla che il nero possa fare. Spero che comunque, vi sia potuto essere utile, questa introduzione, appunto, al concetto di mini piano, mi raccomando, mettete like, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, arrivederci al prossimo video.